Allora ragazzi, molte persone, ragazzi, ragazze, eccetera, mi continuano a mandare messaggi dicendomi, Giuseppe, cosa mangi? Ci puoi dare qualche consiglio? O se no tante persone o allievi che ho conosciuto di persona, mi puoi fare una dieta? Mi puoi fare? Mi puoi dire questo? Cosa mangi? Mi puoi prescrivere questo e quest'altro? No, no, no e no. Sono più di vent'anni che quando le persone mi dicono Giuseppe, ci tedi consiglio o ci fai una dieta, io la prima cosa che dico sempre andate da un dottore, medico, nutrizionista specializzato, ok? E' competente, ragazzi, perché noi personal training, noi istruttori del fitness, trainer, coach, eccetera non possiamo prescrivere diete e neanche dare dei consigli alimentari, ok? Ora vi leggo un piccolo paragrafo così capite bene, ok ragazzi? Allora, il PT non può fare assolutamente diete, un PT non può prescrivere diete, tra le competenze di un PT di norma non ci sono quelle nutrizionali, soprattutto dal punto di vista della legge e la figura del personal training in quanto tale non è abilitata a fare diete, nello specifico non possono essere date diete con grammature, non possono essere prescritte al range di macronutrienti e apporti calorici e non possono essere dati consigli alimentari, quindi stappate bene neanche consigli alimentari, ragazzi. Io vedo tutti questi personal, tutti questi culturisti pure che fanno diete su diete, cosa che non lo potrebbero fare, anche se hanno studiato. Tutte queste cose rientrano nell'abuso di professione, tuttavia il personal training può divulgare le linee guida, crea, consiglio per la ricerca, vabbè, per la popolazione generale, per la popolazione, ok? Cosa accade a un PT che commette abuso di professione? Ascoltate bene, ci sono stati casi di denunce a personal training perché prescrivevano diete e le conseguenze sono state 10.000 euro di multa, 160 ore di servizi sociali, fetina penale sporca, ovviamente. Di conseguenza non pubblicizzate le vostre conoscenze di nutrizione e come servizi sui social, su bigliettini da visita e via dicendo, non si possono neanche pubblicizzare su bigliettini, eccetera. Ok ragazzi, vedo pure su Facebook tutte queste donne personal training o istruttrici, anche maschi che dicono consigli alimentari, dieta alimentare, quelle e quell'altra, non lo potete fare, non lo potete fare assolutamente, io ho mai fatto. Questo vi darà un aiuto nel posizionamento del mondo del lavoro. Se la vostra intenzione è di agire in completa autonomia anche dal punto di vista alimentare, allora il consiglio è di seguire dopo questo corso uno dei relativi percorsi accademici. Vabbè, chi può prescrivere diete? Le uniche figure professionali abilitate a prescrivere diete sono il dietista, il biologo e il medico. Sappatevi bene le orecchie. Il termine nutrizionista viene utilizzato principalmente per indagare il biologo che si occupa di nutrizione, biologo nutrizionista, ma in realtà è un titolo culturale non abilitante. Pertanto un medico può essere chiamato nutrizionista, un biologo può essere chiamato nutrizionista e un dietista può essere chiamato nutrizionista. Normalmente tuttavia il medico che si occupa di nutrizione e che ha conseguito una specializzazione in nutrizione è chiamato dietologo e il dietista prende appunto il nome di dietista. I vari titoli di coach nutrizionale, educatore alimentare e via dicendo sono non titoli e non abilitano abilitano in alcun modo alla prescrizione di diete. Differenza tra dietista, biologo e medico. Il dietista è un soggetto che ha conseguito una laurea triennale in dietistica che abilita alla professione. Può prescrivere diete in autonomia ma sotto prescrizione ricetta del medico curante. Il biologo è un soggetto che ha conseguito una laurea quinquennale 3 più 2 e ha superato l'esame di stato per iscriversi all'ordine dei biologi, in questo caso sezione A, ad essere abilitato alla professione. Il biologo può seguire le persone dal punto di vista nutrizionale in maniera completamente autonoma. La differenza con il medico è che appunto il biologo non deve qualificarsi come medico e quindi non può effettuare diagnosi mediche e non può prescrivere farmaci poiché commetterebbe abuso di professione medica. Quindi ragazzi in poche parole tutti i personal training, tutti gli istruttori, tutti i trainer, tutti i coach, coaching online, mental coach eccetera. Non possono prescrivere assolutamente diete con grammature e non possono dare neanche consigli alimentari e io ho fatto sempre questo. Quindi io non darò mai diete, non darò mai consigli alimentari, posso dare dei suggerimenti su me stesso ma quando do anche dei suggerimenti voi dovete seguire sempre voi stessi andando da un nutrizionista, da un medico biologo che ha studiato nel campo dell'alimentazione a 360 gradi. Comprì sono tutti questi istruttori, se vi beccano 10.000 euro di multa, lavori ai servizi sociali e ovviamente avrete la fedina penale sporca. Quindi siate sinceri e leali con voi stessi, ognuno il proprio lavoro. Personal training deve fare il preparatore atletico del movimento scientifico, in palestra, corpo libero, esercizi, programmi di allenamento e basta. Ok? Dai raga, un saluto da Senza Giuseppe Workout e voglio vedere se riuscite a fare il vostro lavoro fatto bene senza che cercate di fare 20.000 lavori. È proprio vero quel detto quando si dice che un personal training, una volta che ha preso un pezzo di carta non è solo personal training, è diventato nutrizionista, è diventato diatologo, è diventato fisioterapista, è diventato parnatore, è diventato dottore scienziato, è diventato urologo, è diventato ingegnere, è diventato avvocato eccetera. No! Fate una cosa sola, fatta bene. Siete personal? Ok, specializzatevi bene sulla scienza del movimento fisico. Stop! Un saluto da Senza Giuseppe Workout. Let's go baby!